perché per una stessa sostanza quindi per una sostanza pura il calore latente di vaporizzazione è maggiore di quello di fusione vediamo il grafico che abbiamo sul libro e vediamo che questa parte in arancione è molto maggiore e rappresenta l'energia quindi il calore latente di ebollizione per trasformare un liquido in vapore rispetto confrontato a questo rettangolo celeste che rappresenta l'energia necessaria per trasformarlo dalla fase solida alla fase liquida perché perché occorre meno energia per vincere le forze di coesione abbastanza da far sì che le particelle si muovano quindi allo stato solido le forze di coesione tengono ferme le particelle nel senso che non traslano possono al massimo vibrare mentre per passare allo stato vapore allo stato aeriforme le forze di coesione devono essere vinte del tutto perché le particelle devono essere allontanate c'è spazio vuoto tra una particella e l'altra hanno stato aeriforme quindi è necessaria una quantità di energia molto maggiore